Ciao cari amici, probabilmente qualcuno di voi sa già che in Georgia sta cambiando il vento, in pratica una parte della società georgiana e anche una parte della politica georgiana ha preso un corso molto anti-occidentale, anti-NATO, un corso filo-russo, questo non avveniva in Georgia da parecchio tempo, come ricordate nel passato Georgia è stata dominata sempre da forze politiche fondate sul nazionalismo, sul suprematismo e anche addirittura su forme locali del nazismo, ad esempio se qualcuno di voi conosce un po' la storia di questa regione, la storia del sud di Caucaso, Georgia ovviamente come sapete è un paese molto importante nella regione perché la federazione russa in quel contesto, nel contesto del Caucaso del sud, fa la frontiera solo con due paesi, con Azerbaijan e con Georgia, poi tutto il resto si trova più in basso, Armenia e così via, si trovano staccati dalla frontiera della federazione russa e ovviamente in quel settore la vicinanza tra la frontiera russa e la frontiera georgiana è fondamentale per la sicurezza della Russia, sia per la sicurezza di Stato e anche per l'equilibrio geopolitico in quella regione, perché se salta l'equilibrio per via di belligeranza di un paese nei confronti degli altri, la regione è talmente piccola, talmente stretta, si tratta proprio di un colo della bottiglia tra due mari, tra Mar Nero e Mar Caspio, tra l'altro una zona dal punto di vista geopolitico molto tesa perché come sapete al nord c'è la Russia, al sud c'è l'Iran e al sud-ovest c'è la Turchia, immaginate la complissità di tensione che c'è in questa area e questi piccoli paesi ex repubbliche sovietiche che sono concentrate lì, ognuna con propria storia complicata, ognuna con proprio percorso, sono molto importanti per l'equilibrio della regione. Per questo motivo quando appena è crollata l'Unione Sovietica, gli occidentali hanno fatto di tutto per trasformare proprio Georgia nella loro piattaforma antirussa nella regione. Bisogna dire che sono riusciti bene a farlo. Primo politico noto nazionalista antirusso pro-NATO e filo-anglosassone che era imposto alla Georgia come leader era Zriad Gamsakhurdia. Zriad Gamsakhurdia, se noi vogliamo proprio utilizzare i paragoni storici, io chiedo perdono a quelli che magari conoscono la storia della Georgia in maniera approfondita e che adesso potranno interpretare le mie parole in maniera, diciamo, troppo larga. Probabilmente mi diranno, Nicola, stai speculando con la storia. Io vi capisco, vi comprendo, però per spiegare alle persone che conoscono poco la storia recente della Georgia, se io devo in due parole descrivere la politica e la personalità di Zriad Gamsakhurdia, io in maniera più semplice posso dire solo una cosa. Gamsakhurdia era Hitler-Giorgiano. Lo so che è un'affermazione forte, lo so che alcune persone che, ripeto, conoscono la storia della Georgia, mi possono contestare questa frase, ma in grandi linee, cioè prima di approfondire, per dare una visione ampia di ciò che era Georgia negli anni 90 e quale ruolo ha giocato Zriad Gamsakhurdia nella creazione dei movimenti filo-nazisti che ancora oggi noi vediamo, cari amici, ad agire, ad esempio, tutti quei nazisti georgiani che combattono sul territorio dell'Ucraina contro i russi, persone che ampiamente appartengono alle fila delle organizzazioni filo-naziste, filo-occidentali. Loro provengono, cari amici, dalla linea politica che è stata applicata, sviluppata e fomentata sul territorio della Georgia proprio da Zriad Gamsakhurdia e da suoi, diciamo, fedeli, dagli oligarchi georgiani, da persone di politica estrema nazionalista georgiana, da persone che all'epoca, negli anni 90, guadagnavano enormi quantità dei soldi provenienti dagli aiuti occidentali alla Georgia pur di far crescere in Georgia i movimenti anti-russi. Vi ricordo che Georgia negli anni 90 è diventato anche un luogo molto importante per la sponsorizzazione del terrorismo. Quando noi parliamo della prima e della seconda guerra cecene, voi sapete che lungo tutta la frontiera sud della Cecenia, sulle catene montuose del Caucaso, dove il Caucaso del Nord si trasforma nel Caucaso del Sud, Cecenia fa la frontiera con la Georgia e attraverso proprio questa frontiera, cari amici, in Cecenia arrivava la linfa del terrorismo. La linfa del terrorismo all'epoca era, cari amici, soprattutto l'eroina. Molti di voi non sanno, ma anche quando io ero ragazzo e andato a fare servizio militare a 18 anni e per la volontà del destino sono finito in quella regione e ho scoperto con sorpresa che il sostegno al terrorismo all'epoca non si faceva mediante finanziamento che avveniva attraverso i soldi veri. Cioè, gli americani non davano ai georgiani i dollari che loro poi dovevano trasferire ai ceceni. I americani portavano con i loro aerei sulle loro basi NATO perché in Georgia si trovavano due importanti basi NATO ma ovviamente si tratta di basi non ufficiali però era la presenza ufficializzata militari statunitensi, c'erano aerei statunitensi, c'erano le navi presso le strutture portuali georgiani che provenivano dalla flotta statunitense e questi aerei che arrivavano nelle basi georgiane portavano eroina, eroina dall'Afghanistan. Per quale motivo si usava l'eroina? L'eroina non era intracciabile perché non c'è su ogni grammo di eroina il numero di serie come c'è sui dollari. L'eroina pesa di meno della carta rispetto al prezzo. Cioè, un chilo di eroina pura costa molto di più di quanto costa un chilo delle banconote da 100 dollari. E ovviamente per questo motivo veniva utilizzata questa forma di sostegno. E poi, cari amici, il traffico di droga crea complicità illegale e in qualche modo per forza rende i meccanismi terroristici che gli americani gli Stati Uniti d'America creano in una regione li rende legati a un ambiente illegale e sempre manipolabili dagli Stati Uniti perché loro non riusciranno mai a trovare gli accordi con la parte legale perché nessuno al Cremlino non dirà mai ragazzi va bene chiuderemo occhi continuate a trafficare l'eroina purché smettete di fare la guerra questo non avverrà mai e in effetti al Cremlino hanno fatto il contrario hanno combattuto hanno distrutto questo sistema e hanno convinto una parte consistente della società cicena di combattere contro l'eroina e contro la droga perché quella era la rovina di questa società in effetti oggi la gran parte dei ciceni per questo motivo sostiene la Russia sostiene Putin fa parte della Russia e adesso combattono contro i ucronazisti sul territorio dell'ex Ucraina che oggi ormai si è trasformato in un paese 404 paese errore comunque Georgia all'epoca era anche una importante piattaforma per il terrorismo poi quando noi abbiamo visto che le guerre nella nel caucaso del nord sono stati vinti dai russi quindi l'occidente non è riuscito a destabilizzare né Dagestan né Cecenia hanno iniziato a trasformare nel campo di battaglia la stessa Georgia ovviamente di scapito dei georgiani così è stata provocata la guerra se noi pensiamo che la guerra diciamo la guerra per caucaso del nord è stata vinta dai russi definitivamente nel 2005 cioè completa distruzione degli ultimi terroristi e l'instaurazione di un sistema legale in Ciceni in Dagestan è avvenuta dal 2005 in poi e proprio dal 2005 in poi americani iniziano a preparare le forze di terra per provocare una guerra nell'ossezia del sud hanno provato di farlo in Abkhazia se voi guardate la Georgia sulla mappa Georgia al nord ha due zone che sono diciamo problematici storicamente per Georgia una si trova a nord ovest si chiama Abkhazia è un territorio controllato dai russi dove vive un popolo che ha avuto durante anni 90 una breve guerra contro i georgiani perché i georgiani usando proprio all'epoca questi sentimenti nazisti hanno provato di scacciare questo popolo dal proprio territorio e dominare questo territorio non sono riusciti un'altra terra è ossezia ossezia si divide in due zone ossezia del nord ossezia del sud ossezia del nord si trova all'interno del territorio della federazione russa in effetti da sempre faceva parte del territorio russo quella parte che invece sta all'interno della Georgia ossezia del sud anche essa ha subito una guerra all'inizio degli anni 90 i georgiani hanno provato di prenderla conquistarla i russi hanno diviso georgiani e ossezi che combattevano l'ONU ha dato ai russi il mandato permanente per fare lì la missione di pace per evitare che questa guerra potesse continuare proprio questo territorio ossezia del sud hanno scelto gli americani per provocare l'ennesima guerra contro i russi hanno convinto i georgiani di iniziare ad assaltare ossezia del sud all'epoca c'era il presidente Saakashvili tossicodipendente con grossi problemi personali una persona completamente manipolata dai servizi segreti statunitensi e ovviamente se noi vogliamo fare paragoni Saakashvili è molto simile a Zelensky solo che Zelensky arriva dall'ambito dello spettacolo Saakashvili arriva dall'ambito di organizzazioni giovanili universitari sovvenzionati dalla CIA e quindi lui era un giovane studente giorgiano che amava la bella vita dai tempi dell'università con problemi di utilizzo di eroina lui si faceva proprio di eroina prima la fumava poi ha iniziato di inientarsela in questo lui era molto simile a Goering ad esempio se vi ricordate Goering si drogava per via di ferite che lui aveva ricevuto durante la prima guerra mondiale e questo utilizzo eccessivo della droga ha anche destabilizzato diciamo lo stato fisico di Goering lui è diventato estremamente obeso perché lui diciamo ha rovinato il proprio metabolismo stessa cosa è avvenuta con Sakashvili si faceva di eroina diventato eccessivamente obeso sapete ci sono persone che nascono diciamo in corpo e sono anche belle quando li vedete a me ad esempio le persone che hanno una corporatura robusta in me suscitano qualche senso di protezione a me piacciono sono di solito anche buoni però ci sono quelli che hanno dei problemi di metabolismo e che hanno uno scheletro che non è in grado di portare la massa non sono forti e per questo motivo poi soffrono hanno problemi di cuore problemi di fegato e altri problemi di fisico anche le ossa hanno problemi e così via quindi queste persone cari amici di solito hanno questa specie di problematiche e Saakashvili uno di loro hanno intervenuto attraverso Saakashvili hanno mandato militari a Ossetze del Sud guerra distruzione guerra durata 14 giorni i russi hanno distrutto completamente la il sistema militare giorgiano in due settimane i russi hanno preso i porti militari più importanti hanno ucciso anche diversi militari della Nato hanno fatto una grande dimostrazione di propria forza e hanno dimostrato di essere l'unico diciamo l'unico criterio della sicurezza in questa regione agli americani questo non è bastato e anche se adesso giorgiani stanno andando avanti verso un percorso sempre più vicino alla Russia perché sono stanchi dell'agenda occidentale sono stanchi delle provocazioni della Nato e parliamoci chiaro dopo aver vissuto sfruttamento da parte della Nato della guerra del 2007 e avendo visto cosa la Nato ha fatto in Ucraina dal 2014 in poi i giorgiani la gran parte dei giorgiani che i remici non vuole ripetere stessi errori non vuole affrontare stessa situazione questo pattern diciamo occidentale preoccupa molti giorgiani poi diaspora giorgiana è una tra le più grandi in Russia c'è tantissimi giorgiani che vivono a Mosca in altre città russe i russi le amano i ristoranti più buoni che ci sono in Russia sono i ristoranti giorgiani il vino giorgiano insieme con il vino moldavo viene considerato più buono più amato sul territorio della Russia cultura giorgiana fa parte della cultura russa tantissimi poeti scrittori russi parlavano in modo molto affettuoso della Georgia consideravano Georgia parte della Russia e questo sentimento è entrato nella cultura di ogni cittadino russo per questo motivo i giorgiani non vedono nessun motivo perché devono staccarsi dalla Russia e adesso c'è un partito che si chiama Sogno Giorgiano Giorgia Democratica questo partito è stato fondato da Bezina Ivanishvili è un signore filo russo e lui sta portando avanti il programma di questo partito qualche giorno fa questo signore ha fatto un'affermazione potentissima nella quale in pratica ha spiegato come i Stati Uniti d'America hanno provato per l'ennesima volta di sfruttare la Giorgia come un luogo di combattimento contro i russi in pratica lui ha raccontato di una sua esperienza con ex primo ministro giorgiano Irakli Garibashvili Irakli Garibashvili in certo punto è stato invitato negli Stati Uniti d'America dove lui ha partecipato a una serie di incontri a Washington e in uno di questi incontri un politico incarica un membro di governo statunitense ovviamente loro non dicono il nome evidentemente per non creare lo scandalo internazionale ma se tratta di informazione io sono sicuro al 100% reale e questo funzionario statunitense ha invitato Garibashvili il premier ex primo ministro giorgiano a un incontro diciamo segreto nel quale le ha proposto un piano di guerra contro la Russia e questo ex primo ministro ovviamente con esperienze che la Georgia ha già fatto ha guardato a queste proposte e ha detto scusate ma adesso una domanda puramente pratica secondo voi che avete preparato questo piano e che sapete già come è andata la scorsa volta che in 14 giorni le russi hanno distrutto completamente l'esercito georgiano insieme con l'esercito statunitense e con la NATO secondo voi con questa situazione che voi avete proposto con questa guerra contro la Russia quanti giorni durerà Georgia e allora il politico statunitense le risponde e le dice seriamente questa è una conversazione seria e le dice secondo i nostri calcoli militarmente Georgia contro la Russia durerà tre o al massimo quattro giorni e l'altro fa voi avete risposto a voi stessi non c'è alcuna logica di fare la guerra in grande linee non c'è mai una logica per fare una guerra ma soprattutto non c'è una logica di fare questa guerra perché noi georgiani dopo quattro giorni la perderemo e voi sapete e l'altro gli risponde sì voi perderete militarmente ma comunque voi in Georgia siete quasi quattro milioni di abitanti i russi in quattro giorni non riusciranno a ammazzare tutti i quattro milioni di esseri umani figuratevi quindi voi potrete andare nei boschi nelle montagne e iniziare la guerra partigiana contro i russi non vi preoccupate noi vi daremo le armi vi butteremo con paracaduti le armi utilizzeremo magari anche connessioni con paesi in vicinanza utilizzeremo il mare al che ex primo ministro Garibashvili blocca subito le fantasie di americani dice scusate ma ci state parlando in pratica dello sterminio del popolo georgiano ci state spingendo verso una guerra nella quale noi non solo perderemo militarmente ma poi dobbiamo essere anche sterminati uno per uno perché ci userete cioè ci volete usare come uno strumento di una guerra partigiana voi sapete cosa succede quando i riparti speciali diciamo esercito combatte contro i partigiani alla fine a lungo andare si creano grandi danni soprattutto alla popolazione al che americano gli dice sì però in Afghanistan ha funzionato per molti anni e quando georgiano ha capito che gli americani vogliono fare in Georgia lo stesso che hanno fatto in Afghanistan si è alzato e ringraziato e ha detto scusate non siamo interessati abbiamo già fatto una volta questo errore e non lo ripeteremo mai più è andato via da Washington e non le hanno provato nessuna richiesta perché loro volevano fare finanziamenti e cose insomma le hanno detto ecco se sei così stupido che non vuoi massacrare 4 milioni di georgiani per i nostri interessi vattene via da qui questa informazione che adesso ha raccontato il fondatore ha rivelato il fondatore del partito Sonia Giorgiano Bezzina Ivanishvili sta girando molto su vari siti di informazione sui giornali in Russia la discutono molto stessa televisione Giorgiano ha già fatto 4 interviste a lui dove lui ha approfondito questa storia e si tratta cari amici di l'ennesimo esempio che per l'Occidente non è interessa il destino di un luogo che lui vuole dominare dei popoli soprattutto che vivono lì così come l'Ucraina sarà distrutta e veramente sarà la guerra fino all'ultimo ucraino adesso pure donne e bambini cominceranno a fare sta guerra vedrete abbassano sempre di più l'età di mobilitazione più si va avanti più ci saranno questi casi di sfruttamento fino all'ultimo cittadino nella guerra questa è la tipica proposta che l'Occidente fa ai paesi che vengono dominati dagli anglosassoni stessa cosa succederà con la Moldavia se Moldavia continuerà il suo fallimentare e suicida percorso verso l'Unione Europea e verso la Nato stessa cosa succederà con paesi baltici stessa cosa sta avvenendo ormai con l'Ucraina e stessa cosa succederà anche con l'Armenia se Armenia stupidamente adesso continuerà il suo fallimentare percorso verso la politica occidentale comunque staremo a vedere in sé la storia è molto significativa amici come sempre alla fine dei miei video vi invito di informarvi in maniera obiettiva in modo libero io sul mio canale privato telegram cerco di condividere tutte le informazioni che di solito vengono nascoste strumentalizzate oppure censurate del nostro mainstream corrotto occidentale se volete abbonarvi al mio canale privato telegram vi invito di andare nella descrizione lì troverete un link abbonamento costa tanto quanto un caffè quindi potete permettervi un approfondimento giornaliero di notizie importanti che io personalmente scelgo traduco e pubblico per voi e interagisco con gli abbonati anche sul mio canale quindi si può chiacchierare fare le domande ogni tanto io faccio anche le dirette video per i miei abbonati per cui c'è una possibilità di avere un rapporto diretto con me fare le domande e discutere su varie questioni se volete seguirmi qua su youtube come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale commentare i miei video condividere i miei video con i vostri amici vi ringrazio per la vostra attenzione per le vostre preziosissime opinioni per i vostri commenti e per le vostre donazioni tutto questo molto importante per me e per il mio lavoro su questa piattaforma online vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene